Stasera ho pensato a quale potrebbe essere il classico dei classici e mi è venuto in mente che, anche se non è propriamente letteratura, la tavola periodica degli elementi che Mendelef ideò intorno al 1869 in maniera indipendente da Meyer potesse essere effettivamente un esempio da portare. Ovviamente non si tratta di letteratura, però ho pensato che tutte e tutti riconosciamo un forte carattere predittivo a questo testo, se vogliamo, a questa scrittura particolare. Ed è quello che è al centro della narrazione di oggi e anche della storia che vorrei raccontarvi stasera, quella di Clara Immerwelt. Clara è stata la prima donna chimica e ricercatrice in chimica presso l'Università di Preslavia della Germania, a cavallo fra il 1800 e il 1900. Si tratta di una figura poco conosciuta, poiché molto più conosciuto fu suo marito Fritz Haber, premio Nobel per la sintesi dell'ammoniaca nel 1918. Mentre Clara era una donna estremamente pacifica, pacifista e attivista per i diritti delle donne, Fritz Haber, oltre che per la sintesi dell'ammoniaca, è tristemente noto per la sua ricerca in ambito dei gas tossici da utilizzare come armi, quali il fosgene ed altri composti organoclorurati che furono appunto impiegati dalla Germania di allora nel primo conflitto mondiale. Clara più volte avvertì il marito delle conseguenze nefande delle sue azioni di quanto fosse immorale, proprio dal punto di vista scientifico e umano, proseguire la ricerca in questo ambito. Ma non ci fu verso perché Haber le desse ascolto e Clara si sparò ponendo fine alla sua vita nel 1915. Questo non fece desistere Haber che il giorno dopo proseguì le sue sperimentazioni sul fronte orientale contro i russi e pur tuttavia bisogna riconoscere che gli avvertimenti di Clara ebbero effettivamente fondatezza, poiché durante il secondo conflitto mondiale, nonostante tutti i servigi resi all'esercito tedesco, neanche l'intermediazione di Planck riuscì a salvare Haber e Preu dallo sterminio. E quindi con questa vicenda, con questa storia che è in qualche modo una parabola e ci parla dell'etica in ambito scientifico e dell'umanità tutta, che comunque sia racchiusa in questa tavola, vorrei salutarvi e darvi così una suggestione per riflettere sulle nostre azioni e su quella che è la finalità poi ultima di questa rubrica, cioè storie e parole contro la guerra, per la pace, per una costruzione consapevole di comunità. Buona serata, a presto.